Benvenuti al solito appuntamento con Masotti Arte e oggi siamo a casa di Davide Puddu, pittore sardo che disegna somari e nuraghi. Allora, questo sono io che tiro il somaro. Che cos'è che significa quattro? Significa che nella vita devi tirare, devi tirare, la Sardegna tira, la Sardegna è il meglio dell'Italia, il continente, quando sono venuto in continente non sapevo fare niente, mi hanno detto, dipingi, dipingi, tu sei bravo, e dipingi, e io sono bravo.